Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha ufficialmente posticipato il suo viaggio in Cina, previsto per la settimana prossima, dopo che il Pentagono ha individuato nei cieli americani un pallone aerostatico da ricognizione cinese, il quale ha sorvolato peraltro alcune basi militari nel Montana. L'uso di tali vettori a scopo spionistico è noto agli americani e non solo. Inoltre si tratta di uno strumento le cui capacità di raccolta informativa non sono certamente superiori a quelle di un satellite che gira nelle orbite basse attorno alla Terra. In ogni caso il governo americano ha deciso di non abbattere tale vettore nel timore che i suoi detriti potessero colpire qualcuno a Terra. Insomma si tratta di una non notizia di fatto, il cui effetto però è stato fragoroso sul piano mediatico. A poco sono valse le scuse della Repubblica Popolare, secondo la quale si tratta in realtà di un pallone ad uso meteorologico e che sarebbe finito fuori rotta. Del resto è un po' quello che era stato detto dal governo cinese quando dispositivi simili sono stati individuati nei cieli di Taiwan nel febbraio 2022. La rilevanza attribuita a questa vicenda da parte americana in realtà collima con le manovre attuate da Washington nell'ultima settimana per mettere tatticamente in difficoltà la Repubblica Popolare cinese la quale attendeva Blinken per rilanciare il rapporto con l'America non tanto perché voglia porre fine alla competizione di lungo periodo con gli Stati Uniti ma semmai per arginarne la pressione, la crescente pressione esercitata sia nel campo militare sia nel campo tecnologico. Per approfondire questo argomento potete leggere il mio articolo scritto su Limes Online direttamente dal link in bio oppure sulla home page di Limes.